Le ricerche sono partite di questa persona dispersa questa notte, quando è arrivato l'allarme hanno trovato l'automobile su a bocca della selva. In questo momento tutte le squadre, sia dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino che dei Carabinieri, sono impegnate nella ricerca di questa persona su tutto il territorio, soprattutto sul bordo della strada. Naturalmente stiamo lavorando, si hanno buone speranze di trovare la persona nel più breve tempo possibile. È fiducioso Mariano Arcaro del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai suoi uomini sul posto a bocca della selva, comune di Cusano o Mutri, provincia di Benevento, ma al confine tra Mulise e Campania ci sono anche Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri. Dal tardo pomeriggio di ieri cercano disperatamente Serino Pietrangelo, quarantenne di guardia regia, che giovedì sera ha fatto perdere le sue tracce. A dare l'allarme è stata la famiglia dell'uomo, Serino è salito in quota per sfuggire alla calura, avrebbe inviato un messaggio alla ragazza, augurandole la buonanotte, poi più nulla. La sua auto è stata ritrovata a bocca della selva, in località Sella del Perrone, all'interno non mancherebbe nulla, pare fosse nascosta, episodio questo che non può passare inosservato. Le ricerche sono concentrate su tutta la zona, il campo base è posto sulla diga di Arcichiaro, le operazioni di terra sono condotte dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, con loro due unità cinofile dei vigili del fuoco, una di Campobasso, l'altra di Matera, qua di Uvati da una squadra al completo, si cerca lungo i bordi delle strade, nei campi, ovunque. Una valutazione globale del territorio e di dove potrebbe essere finito Serino è stata fatta con l'elicottero della polizia di Pescara, l'undicesimo reparto volo giunto in mattinata sul posto. Sull'elicottero personale di polizia e soccorso alpino questi ultimi utilizzano anche un drone perché si sa che dall'alto è più facile. Al momento non si esclude nulla, chi conosce Serino lo descrive come un ragazzo tranquillo e senza problemi, né familiari né lavorativi, nulla dunque che lascia presagire ad un allontanamento volontario. Grazie. 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 Grazie.